Sul tema delle riforme, il nostro Davide Cordua ha intervistato il senatore Roberto Calderogli. Andiamo a sentirlo. Non posso soddisfare il nulla. Io sono dell'idea che la legge elettorale la si deve fare alla luce delle riforme costituzionali. Se sarà un senato diverso come quello federale, è chiaro che lo strumento elettorale dovrà essere differente rispetto ai vari modelli. Se vogliamo mettere in sicurezza una legge elettorale che possa coprire il periodo fino all'approvazione di quella definitiva, la mia idea, e ce l'ho da tre legislature, perché in ogni legislatura all'inizio ho presentato una proposta di legge su cui c'era stata anche un'assonanza col Presidente della Repubblica, che abolisce l'attuale legge elettorale per far rivivere il mattarellum. Non perché sia la miglior legge possibile, perché anche col mattarellum, quando il Paese è diviso in tre fette, nessuna certezza vi è di una possibile maggioranza di governo. Però è talmente odiata dai segretari di partito e da un Parlamento di nominati, che sarà il pungolo più forte per poter poi approvare una legge elettorale definitiva e andare finalmente al voto con una legge equilibrata.